Ovviamente non si vada a perdere sopra tanti frame, tantissimi frame come nell'ultima line Perché ho un brutto presentimento che succederà Comunque, signor Lord, secondo lei la perdita di frame, quindi l'aumento di ping, è dovuto sempre all'upload basso? Sì, no? Penso di sì Allora, sì, guarda Cioè, no, no, aspetta, noi frame E più che altro il ping che si alza Cioè, quindi il ping molto alto Sì, allora, sai perché? Perché quando tu streami, è vero che sfrutti l'upload Ma c'è sempre quella spinta di download che si va a sprecare Quindi se più o meno upload hai, più avrai questa possibilità di ping Perciò dico, siamo un attimino incatenati anche per colpa Anch'io ho avuto questo stesso problema Quindi posso confermarti che siamo lì, eh Posso confermarti che è quello Che dobbiamo fare? Pazienza Dobbiamo aspettare questi giorni in modo che Mi... Sì, mi devono aggiornare per vedere se migliora la situazione Ma, eh, ma la scheda video per caso mi ha modificato qualcosa Qualcosa che non dovevo Dittagli, no, tutto low, tutto low 75% rende scale Perfetto, ok Vabbè, ma c'è l'Ninvidia Come? C'è l'Ninvidia come scheda video? Sì, sì, la mia sì La mia sì, l'Nin80 attiva Eh, non... con queste... con questi... cioè, con gli ultimi aggiornamenti non dovrebbero più darti problemi sui config? No, no, eh, per farciò dico, intanto non me ne andati Però, sai com'è? Non guasta mai... C'è l'aura Sì, non guasta mai andare a fare un check out Per vedere se la situazione mi ha variato Cioè, tempo fa davano dei problemi incredibili Ma, beh... No, guarda, sì, sì, ma io ricordo che... Più di una volta mi è successo che mi ha... mi ha sminchiato tutti... I settaggi grafici Di alcuni giochi Hai capito? Sì, tipo, vabbè, l'ultima volta è stata con Apex Però è stato un aggiornamento del gioco, non dell'Ninvidia Sì Sì Mamma mia Apex Un'uscita proprio... Apex reggendo Ok, ci sei già Un'uscita... Sto inloggando, sto inloggando Adesso aspetta, prendo... Intanto gli sto scaldando un pochettino Ma è password A proposito di questo Tattaccia di sicurezzo Eh già Ok, sto inloggando solo Ok, let's go Sennò che c'è loccato a 720 Sennò che c'è loccato a 720 Loccato a 720, stai streamando Eh, appunto, per quello Però sai, non sempre Dipende da Twitch Vediamo, magari oggi ho la fortuna di avere... No, nemmeno oggi Peccato Per esempio Due o tre stream fa Avevo la possibilità di cambiare La qualità Eh, ma ti è capitato Eh, sì Dipende da Twitch Che ci possiamo fare Dipende anche dall'orario in cui streami Più che altro Sì In regione No, non gli si parla in regione Fa tutto un fascio Per quanto riguarda questa modalità Questa opzione qui Credo di sì Credo Perché non lo so Eh Ma penso di sì Altrimenti magari avremmo Più possibilità Però In ogni caso È una fascia in cui ancora ci sono diverti streamer Sì Vabbè E poi niente Noi ci facciamo la nostra partitina Quando vuoi Sì, sì Invitami quando vuoi tu Ok Allora passo A schermo intero E si vola Anzi Magari sai cosa posso fare Chiudo Non so Qualche app Che potrebbe Mangiare un po' di rete Ma in realtà È tutto chiuso qui So steam Però adesso Posso anche chiudere Chiudi perché potrebbe Partizione update Sì Cose strane Quindi Per adesso chiudo Tanto non serve Ok Perfecto Dove stai Dove stai Eccoli qua Invitami Invitami Y Quanto è divertente giocare Overwatch In PS4 Non lo so perché Non l'ho mai provato Questo divertimento Sinceramente Quindi No io dico Immagina quelli col controller Aspetta che prendo la mira Aspetta Mamma mia No no Ora che ci penso L'ho giocato una volta A casa di un mio amico Ma tipo Una partita Soltanto una E non è che è uscito Una grande Una gran partita È molto divertente Devo aggirare il record Di C-Day's Quindi siamo sempre Ovviamente Zero Zero E zero Zero Yep C-Day's record Non abbiamo ancora fatto E io Voglio andare Voglio andare Voglio andare Voglio andare Soldato 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 C'è river C'è river però Riappalle È su di me Quindi posso capire Posso dirti Che è vero Esiste Io sono dietro di te Quindi sì Capirai Va bene Ma come funzionano Le palle di Zenyatta Ovviamente Vado Colpisco E me ne torno Cacca cazza Di sicurezzo Cacca cazza Di sicurezzo Passo per L'Ealing Station C'è la muera dietro Che è pochettata Dalla Mercy Pensa un po' No più gatto Ce l'ha Ce l'ha come intanto Perché sono un easy target Mi vuole bene Vieni qua Oh ancora viva Oh sei calmo No Dai vi è c'è Abbi il coraggio Ah Ottimo Ha deciso di Cadere il Signor Anza Oh che cazzo Eccolo Credibile Presa al volo Sta dietro così Però Mi ha preso Impienissimo Hello La situazione Non mi aggrada Ne ha chiamato Dai Mei Fai qualcosa Oh ma quanto gli dura La ultima Sta stronza Dobbiamo Sempre libero In realtà Sono io il leader Che fa più danni Accettatelo Ecco Ed eccolo lì Arrivala in mezzo E killa tutti Come si chiama Viper Oh 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 Sarebbe bello Fartelo No così faccio la ulti Capirò In orb Eh Me la potete Anzi aspetta Ma la facciamo Vieni via Vai Non c'è nessuno C'è più nessuno Eccolo Dai Dai In un certo senso Ce l'abbiamo fatta Dai Pigliala Pigliala Dietro Lasciamo Ma Ma Brigitte Ma veramente Dietro 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 No Forse Brigitte Brigitte Ma quanto puoi essere Buona Meno due Dai Non è Non è impossibile Tento Cazzo Da fuck Boom Avevo prezzo Vabbè Vengo di qua Fuck No Meno due Un lukie Un lukie Un lukie Ah Aia Dio Aragorn Nice Proprio lui Aragorn Direttamente dal signore Lene Quando la mia Stream si chiama Gandalf E si lente Magici Amici Ma va bene Le facciamo in un'altra I want to die I want to die I want to die I want to die Proprio boh Non si sa Perché Cosa devi fare Dopo pagarmi gli studi Devo anche pagare Ah in quel senso Ah Pensavo Se stessi dicendo Che Poi oltre a quello Mettici pure Il conto Che se mi devo Comprare qualche vestito Sì No Ho capito Pensavo Che stessi dicendo Che volevi prenderteli Che te li vendevi Presto No E volevo Cioè Volevo prenderli Ma Cioè Avevo intenzione Di prenderli Poi è successo Tutto Sto Ambaradam Sì Sì Vabbè Ancora deve trovare La partita O la sto trovando Già No Sto un attimo Ok Let's go Oh Ma Oh Come Excuse Oppure Come Come Too mad Sotto due Pirilli La stessa maniera Vedere Le skill Le skill Di mercy Io ho ancora Questo qui Che dobbio Cambiare Per mettere Pink mercy Let's go Cacca cazza Di sicurezza Cacca cazza Di sicurezza Penso Troppo forte No Mettiamo Questa carina Cacca cazza 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 Macri Dobbiamo cambiare La skin Macri però Eh La skin Di Macri Anche Cosa gli ho detto È presente? La skin di Guido La skin di Guido quella beta È presente? Quella di iscrizione alla beta Quella che vorrei avere ma non c'ho Ecco c'è uno che ha messo la key 150 euro La key in che senso? Come fai? Ce la puoi comprare? È un'edizione di un gioco Che è contato come se fosse Un accesso alla beta Quindi ti dà anche la skin 150 euro per quella key Madonna Ma scusa io non lo posso vedere Dove sta? Perché non c'è? Perché non È presente le skin della lì che sono nascoste Se non ce l'hai non le vedi è uguale Pensavo potessi vedere Ma non disponibile Tipo che ne so quella di sombra No un conto È un conto che puoi vedere quelle dell'origins Quella lì che tipo è bassa Con i pratoli Quelle le puoi vedere perché puoi sbloccare Ah beh quelle sì sì Quelle sì sì No Eh punto Quelle che puoi comprare Sì Tipo non lo so Ad esempio Anche se io mi vado sulla sombra No Non c'è la skin della Della Breeze Con Perché non l'ho comprata C'è c'è la puoi vedere Perciò di Perciò mi sembra strano La puoi vedere? Eh sì Isci Ah sì 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 La puoi vedere Strano Però quella di Quiston Non ce la fa vedere Cioè Non so È tutto È tutta una cacciara Sì non so Quella di Quiston Di due anni fa Boh Neanche Bassi Non puoi vedere Ora che ci penso Reaper? Ah proviamo Reaper Così l'ha visto Reaper? No perché mi ha dato Reaper Direttamente Prima personaggio In scelta Prima scelta Hai parlato Il gioco praticamente Il gioco ti dice Reaper Ho preso il primo pick Che mi sei presentato Per selezionare E quello è stato Let's go Ah Benissimo Non ti vedo da lì Bene Ma dai Che mi stavo fidando Su un rotolog Che bello Ah eccolo Gritor Incredibile Proprio lui Gritor Stavo dicendo Eh no Non è qui che c'è Il cazzo Stai lì Ma tuo cazzo Stavo dicendo Ehm Eri tu che mi dicevi Delle ali di Mercy Nella skin pink Che non sono rosa Se lo sbaglio Ne parlavo con te Di questa cosa Era quella pink Perché adesso sono rosa Grazie per il cheer Grazie per il cheer Buon Gritor Grazie Dri per dietro Eh l'ho visto Ah quella di Natale Ok ok Allora me sto confuso Eri per dentro Eri per dentro Non più Oh Oh Tenta La pink è fatta bene Si No Ma tuo Quella Nella kill Allora C'è la miseria Arrivo Ripper, arrivo Non morire Vabbè Dai che dopo Scaldati che dopo andiamo in Fosvapex Mr.Gripper Se vuoi lo vuoi fare anche, dovessi andare anche subito No, 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 1-2 la voglio fare, almeno 1-2 Mamma mia Bello Fatemelo killare Dove sta? Eh vabbè Mori Mi gioia divertirmi con Ripper Il mio globo non ti aiuta manco un po' Ma addosso Ripper Lui o io? Lui mi è venuto in faccia Oh, sto andando a teletrasportare Teletrasportare Subito la pure la prendiamo da Revenge Tranquillo Quella è morta Ah no, era Fara, ok Adesso arrivo io Scendo dall'alto, ne killo 3 e vinciamo Guarda Vai Vabbè dai, in certo senso l'abbiamo fatta Non ti dà la possibilità Non so perché Cioè aspetta Non ti esce l'anagrafico con il condividi Scusa Massimo Facciamo vedere Ah, non è arrivato Vabbè Perché ho usato il beat E ricarica la spin Lo stream Ricarica un attimo la pagina Perché a volte è possibile che si possa bugare Potrebbe essere Vedi un attimo se vuoi farla Che testo mi ha fatto meno dubbio Fammi vedere Aspetta un attimo Perchare un attimo Allora Vabbè, dai, dopo controllo Che è successo? No, non so perché non gli do la possibilità di fare la resab Adesso finisce questa, vediamo un attimo cosa deve succedere No, perché adesso mi ha fatto vedere un dubbio Vuoi uscire a controllare? Vabbè, ormai no, adesso è iniziato Un po' di gure, non ci deve però mai... Sì, stegniate Ma porc No 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 Vantaggio Vabbè, oh, ma questo mi cesa No Molto 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 Ma percor tax Ah, schiacciatina Cioè tu praticamente clicchi sul file di sabla E non esce niente Comunque la possibilità di farlo c'è Non è che non c'è proprio La Se non ti hanno tolto l'affiliato perché altrimenti mi hanno dato neanche i bit se pensi questo Se pensi che ti hanno tolto l'affiliato è impossibile No ma non penso, non credo che si tolga Eh, appunto, appunto, sì, no, mi ricordo Aspetta, scusa Non è scaduta ancora l'esercorto Spaninato Ah, ok Per far partire Beh, fai così, esci, vai, controlla Eh, no, se l'avevi già fatta Contra la... Guarda, scusa un attimo Play of the game Come un attimo dovrà Eh, sì, ok Non gli fa partire la moto Tutto questo qua Eh, fai fai Ho capito, però Però, però, però Squish, squish Questo non è neanche mi serve Vabbè, questa... Andiamo a fare un giusto cose strane Buon momento termina in data il 21 marzo 2019 tra 24 giorni Ok Ok Quindi te l'ha fatto fare Però Perché non ti fa fare... Sicuramente è un bug di Twitch a questo punto Non so cosa dirti Sarà sicuramente un bug di Twitch Eh... Non so, non so Vabbè, eh... Comunque sia O che sia uscita o che non sia uscita Facciamo così Eccola La faccio partire io Eh, no, più che altro A questo punto Comunque sia Comunque sia Ti... Ti spetta la canzone E poi un attimo Controllare un po' di cose Ma nel frattempo Pensa e scrivi Allora Perchè Perchè hanno cambiato un po' di cose Posizioni Moderazione Affiliato Eccolo qua Ah, per... Aspetta, aspetta Hanno aggiunto un'altra cosa Ottieni abbonati con Twitch Vabbè Attiva... Attiva l'estensione Ok, hanno aggiunto un'estensione per gli abbonamenti Ok 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 Secondo voi Potrebbe aiutarmi Comunque Vi leggo cosa dice Attiva l'estensione Twitch Prime Per coinvolgere Vabbè Per coinvolgere il pubblico E ottenere abbonati In quanto affiliato Questa espensione Inviarà Una notifica Agli spettatori del tuo canale Quando sarà disponibile Un nuovo abbonamento a Twitch Prime Da usare Per riscuotere Una ricompensa a Twitch Prime Gli spettatori Che non hanno Twitch Prime Visualizzeranno Un'icona A forma di corona Che consente loro Di spiegare Come possono ottenere Un abbonamento gratuito Da utilizzare sul canale Che si iscrivono Che si iscrivono a Twitch Prime Quindi Non so Potrebbe essere però Troppo Invasiva Secondo me Eh Cioè cosa fai esattamente? Praticamente ti arriva Una notifica Sulla Sulla parte dell'icona Coroncina Tipo quelle che abbiamo noi Ecco che ti dice Hai un nuovo Abbonamento a Twitch Prime Da utilizzare Con il canale che vuoi Sostanzialmente ti arriva una notifica E ti dice C'è? Ti puoi abbonare su Twitch Prime Ti puoi Vada a farla Puoi metterla Non succede nulla di male Casomai uno può chiuderla Non è che Sì Vabbè dai Niente Per adesso Per adesso l'ho saltato Perchè se no poi ci sono Da fare Postazioni Cretinate Cose Aspettate Vediamo un attimo Ah comunque Stavo controllando Un attimino Perchè mi è arrivato Un'email Qualche giorno fa Dicendomi che adesso Se non sbaglio Si può È possibile usare Più emoticon Però Però Queste sono le gentive Va bene Questo Lo sappiamo Non ci sono ancora degli slot Disponibili C'è tra l'inviata di mele che puoi usare più emoticon Ma non ci sono gli slot No Forse Cioè non subito Devo un attimo capire come funziona Perchè non l'ho guardata per bene Vabbè ottenere 15 minuti abbonamenti Ok Quindi devo ottenere 15 abbonamenti Per avere un altro slot Vabbè questa qua È una cosa Che si sapeva Allora Allora Estensioni Dovrebbe essere questa in teoria Prime Subscription Eccola qua Si è proprio questa È proprio lei Vediamo Estensioni non verrà visualizzata nella tua pagina finchè non avrai attivato ingestisci Ok Estensioni Proviamo Prime Subscription Ok Comunque Gritor Per me puoi già iniziare a decidere la canzoncina che la si fa Poi facciamo due ranked E finiamo su Apex Devi cantare una canzoncina Yes Ma che bello Io Io sono proprio addirittura a backstage La sentirò sul momento Grande grande Però tu la sentirei Diciamo senza base Quindi non è proprio il massimo secondo me Dovresti mutarmi e sentirmi in live Sarebbe un po' problema aprire internet Però posso ascoltarti quelle cuffie col telefono dai Grande addirittura Vai vai Vabbè per adesso lo è installato poi si vede se devo attivarla, come attivarla eccetera 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 Dove gridi Riveliate Gritor Dicevo signor Gritor quando vuoi puoi Tranquillamente Comandare la tua canzone Da eseguire E la eseguiremo Anche se non è partita la La transizione di Sub description Non so perché ma fa niente Attenzione qualcuno sta tornando a giocare a Overwatch Fran ed Emong Sono loro due praticamente Che dobbiamo fa? Che dobbiamo fa? Vuoi fare qualcosa? Eh? Vuoi fare qualcosa? Non lo so Che cosa vuoi fare? No tranquillo per le lyrics tu dimmi la Il titolo e lo cerco e poi Ci penso io alla lyrics Don't worry Don't mind man Certo questa cosa che mi lagga La stream per colpa dell'upload Mi tocco Non è possibile che laggo così tanto E' per forza colpa dell'upload Non c'è alternativa ragazzi Per forza per quello Ma si è quello Cioè non capito adesso non sto giocando Vedo lo stream che ogni tanto Ha degli scatti E per forza per l'upload Non c'è alternativa Non può essere il pc Non esiste No ma non è il pc Appunto Cioè Va bene Chiudo quello del cellulare Prova l'upload Già comunque sia Chiudendo questo forse un po' di banda La salviamo E niente Cioè l'upload Ora cito testualmente Dallo speedy test Download 44 Ping 20 Upload signore e signori 580 5 5 Megapass per seconde 5 E 80 Come cazzo fai Come cazzo fai Il stream Guarda E' vergognoso Veramente E' già un miracolo Che non sei crashato Porco mondo Dicevo Tranquillo per la lyrics Tranquillissimo Poi controllo io La trovo io Ma me l'hai mandato da qualche parte Grì? Su discord Non so Ah Sì Ok su discord Cos'è? Dio Cos'è? Successe una cosa di orribile Ok già Passiamo male perché non la conosco Tu si dico Dai io devo ascoltarla Mazzini Ok Allora Non potrebbe essere difficile la canzone Dai E' carino Carino Successe una cosa di compagnia 3d1 Pronti? Reggae Reggae Got so Got so much Got so much Reggae Got so Got so much Figgato. Regga. Anche se non hai problema, forse, non ci metto. Don't be afraid, with your heart you'll find a way. What are you kids, you're just racist. Back at the beach, Z could teach, I believe the ones that you could reach. Make it back home, I call them a win, in front of my mirror, pretend I was him. Staying up late, didn't wanna go to bed, watching me see with a man in my head. It came, it came with a bang, and all across the floor, my friends felt the same. Tekken. Tekken. Cosa? Cosa? Jiken Joe can do in Tekken. Cosa? Cosa? Cosa significa? Can do in Tekken. Vabbè. Stop. Cosa? 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 It's Reggae got soul, got the soul of my soul Reggae got soul, on the young man You got soul, you got soul And I got soul, I got soul Everybody got soul, everybody got soul Got so much soul, got so much soul Cody got soul, Cody got soul Take a line and cut soul, baby got soul Everybody got soul, everybody got soul Everybody got soul, everybody got soul Everybody got soul, and he's got soul And she's got soul, and she's got soul And he, 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 and she, 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 she Everybody got soul, everybody got soul Got so much soul, got so much soul Reggae got soul Ci sto provando dai Ci ho provato Chiaramente le parti più difficili Più veloci non sono immediate Però se riresta una canzone Molto Orecchiabile dai Ascoltabile Molto musicale Ci sta è carina Felice, reggae, soul Ci sta ci sta Bella gri Bella gri Mi sono visto ragazzi L'altro giorno del cinema Alita Molto bello Mi ha convinto Sì mi ha convinto Sì vabbè le parti Se non le sentire almeno una volta nella tua vita È un attimino difficile Andare subito a canticchiarle Che tra l'altro come dicevo prima Vi consiglio di andare La verità è andare a vedere Alita Angelo Della battaglia carino Mi è piaciuto Ah quello a fare gli occhi strani Sì È un cyborg Mettiamolo così Vabbè lord Aspè aspè sto rientrando un attimo Due secondi Mi è piaciuto A me è piaciuto tutto Se devo essere sincero Vabbè il primo tempo Sì Però anche la parte La seconda parte è carina Cioè Mi ha convinto Nel senso non è stato un film che dice Eh sì però Non mi ha lasciato niente Non mi ricordo niente In realtà Mi è piaciuto E quindi Immagino che ci sarà un seguito Staremo a vedere Penso di chi Credo Presume Comunque Gritor Più tardi Quando sarà Ti chiameremo Perché Altrimenti È un po' un problema Oggi Sentirci col server Ti chiameremo Direttamente In In chiamata Privata Nel gruppo Aspetta che sta facendo Un updietto del cazzo qua Dei momenti di cringe Allucinanti Perché In cosa in particolare Cioè io non Non mi sono Cringiato Se sento Se Sì Sbancato Dai Cioè Sì Ma più che altro Per come È finita la storia Diciamo Di far un attimino Pensare Che ci sarà un seguito No Eh Ti Andiamo con Godus Qua allora No Aspetta 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 Che Madonna Ok Non so cosa cazzo Sto facendo Madonna Santa Sempre quando fa Cosa Meno male Che non ha fatto Il ranker Di sta cosa Che è successo Ma sei Caduto È partita Sì l'update Di Di NVIDIA Sì l'update Di Avast Lascia Tutti insieme Perché Cosa Perché Era antivirus Non basta Il Windows Defender Hai ragione Pure te Ti consiglio Di farlo I virus Di antivirus Sono una cosa Passata Non le va Sono indeciso Su fare skin Di video Mi chiedere Mettere Soltanto questa Invernale Non c'ho Ah beh La nuova Questa si trova È quella Che dicevamo Prima Con Lord Se vuoi Fa due spari Fatti un attimo Una qui Qualcosa No no Sto Mettendo Sto selezionando Skin E robe Sto carino Perché tanto tanto Adesso sto finendo qua Attenzione Gritor Va su youtube Che cazzo È saliso Ancora Basta No Non c'è manco Un cacchio aperto Solo perché Salve a tutti Ah beh Sinergo Ok Vabbè Poi magari La guardo con calma Sì Sinergo È molto 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 Critico Sui film Quindi C'è Va bene Tutto quello che dice Però insomma Ogni tanto C'è È difficile Che lui ti dica Un film Mi è piaciuto Capito C'è Veramente Difficile C'è stato Anche in grado Di criticare The Avengers Vabbè Oh Raga Ognuno Ha i suoi Dubbi Ognuno ha i suoi gusti Ovvio Quindi non gli si può Di niente Se lui non è piaciuto Non è piaciuto Punto Niente da dire Eh già Che ci vuoi fare Sì sì No Sì lo so Lo so Che ho capito Che l'hai visto Anche tu al cinema Intendevo In quanto riguarda lui È difficile Che Gli piaccia un film Insomma Ecco Sì sì No vabbè I suoi video Sono comunque Sempre divertenti Ovviamente Senti ma Stai morendo Che sta succedendo Eh io purtroppo sì Se vuoi farti Nel arcade Un attimo Perché Ah ok Non l'ha visto il film Va bene Dovro Dovro guardare Il video Comunque Per esempio Cioè io non capisco Considerazione Prima di andarlo a vedere Ho capito No Non capisco Perché non gli sia Piacciato Cos'è che non gli abbia Non capisco cosa Non l'ho convinto Di Di The Avengers Ci ha fatto il video Eh Ho visto un qualche secondo Poi non ho più avuto Tempo di guardarlo Però Sembra che Non mi sia piaciuto Vabbè Oh raga Ognuno ha i suoi gusti Oh ma che cazzo In tema film Tra l'altro Ieri hanno fatto gli Oscar E io li ho guardati Cos'è successo Lord Ma non lo so Oh si è calmato E' finito Che cazzo era Cioè Non puoi capire Si Avast si era un attimo Non so Stava facendo una scansione Qualcosa Perché non capisco Disattivano quando è così Poi lo che ci pensi dopo Eh Mi sa di sì E quindi Grimbook ha vinto Miglior film del 2018 Ragazzi Grimbook E Grimbooks E io Sto entrando Sto entrando L'inverno dovrebbe essere passato Di nord Di nord Inverno sta arrivando No Ma no Ok Allora Online No Cazzo faccio Ti invito io Poi ti metto Ok Ok Io non ti vedo ancora No No è normale Sono flaneo Ti invito io E ti metto Ti metto Ok Cerca di serve L'accesso in corsa Caruccia vai La sigla di Parigi Paris Ok Dai Carica Sto cazzo di menu E vai Insta go Insta let's go Allora Obiettivo della serata Meno 100 Dal season Meno 100 Meno 100 Dal season High Che stai a ridere Dal season High Capito Va bene Va bene Scusa Quindi sono punti guadagnati Non so se sei accorto Oh no Comunque riprendendo in tema Del titolo della mia streaming 3,2,1 Gandalf E silente Magici amici Gandalf E silente Magici amici Ecco Poverse Voglio fare l'artista Col mio amico alchimista Non sono un alchimista Sono un mago Perbacco Guarda C'è un bambino Ti auguro sempre le meglio cose Grazie 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 Ma no Ma no in cattiveria Spero che tu avrai un futuro Ma è semplice Basta guardare i video di Maurizio Merluzzo E vi Imbatterete in questa canzone fantastica Bellissima Let's go Mi piace Mi piace Neepal L'abbiamo giocato prima Pomeriggio Ma va bene Ma anche a me mi piace A me piace Non mi piace Oh Dai Se io dico Mi piace Nepal Si può dire Anche a me mi Non si può dire Ho sbaglio Chat Chat Gritor Casuali Io mi rivolgo la chat C'è qualcuno che sta guardando E lo sta scrivendo E' sempre chat Che stanno gli spessatori E' sempre chat E' sempre chat Basta Nazeroth Però qua Dai 3 2 1 Hello guys Can we have a main tank Maybe Reynard Please Quanti rispondono Nessuno Quanti in chat 4 di cui 1 Non si tu Entra in chat C'è Senza tiltare Possibilmente Scusi Perché Perché Che ho fatto Ma così Neanche se è entrato C'è Prevenire è meglio Che curare Come si suol dire Abbiamo due pick Da poco faremo anche il Winston Per pick No Grande No Stai giocando Reynard Devo stare in pausa Uno di vita Come sempre Oggi ho la mia vita Oh ma sta diva Lascia in pace I miei healer Oh no Un'onda Dai Nice Reynard Grande Tutti i pin Tutti li stop in onda Quanto ne ho rischiata Quanto ne ho rischiata Ah lo sai tu Eh lo solo io Lo so Oh vabbè dai Non riesco a giocare Che cazzo Tutti li sto pinnando Tutti È mitico È mitico Nice Reynard You get all the pin Grande Cioè non ne ho sbagliato uno Non ne ho sbagliato uno Si vede che abbiamo trovato la versione pinatore seriale Perfetto Proprio come il nostro No non c'è più Perché è così bravo con Reynard Come il nostro Eh vabbè risa ci sta qua Vuoi buttare tutti giù con la patta Capito me Devo andare a Rodok No non ci vado a Rodok Perfetto Perfetto No no via da là Vai via da là Via da là Che mi buppa Via da là Che mi buppa No Eh Eh Io ho aspettato Healer per due anni Ho aspettato Ma nessuno è me Cioè Molto per l'incendio di Ash Va bene Avrebbe potuto Reynard Averebbe potuto Ma attiri tu Oh Ma che sto ricevendo poco healing qua Vabbè dai È andato a Rodok Che pure lui Buono Eh Te pareva Allora Passi Averebbe potuto Buona, buona, te lo stavo a perdire. Buona, buona. Luigi è il Lord. Buona, buona. Buona, buona, buona. Ma porca. Buona, 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 buona. Buona, buona. Buona, 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 buona. Buona, 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 buona. Buona, 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 buona. Buona, 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 buona. lord datti una regolata che ho fatto ha scritto gritor perché stai killando troppa gente vabbè ma la fara ha fatto tutto in uno guarda qua e seppure ci avessi la matrix guarda tutta la matrix tutto tutto ha fatto va bene va bene mi è piaciuto molto il reinaert al primo punto è stato molto bravo anche qua dai anche se è andato risa e stavamo per trovare poi ha capito che si è stato troppo pro a parte scherzi è stato bravo ha giocato bene io te lo dico quando giochi bene te lo dico sempre quindi let's go verso l'infinite oltre dice buzz light years quindi no ma io posso essere bravo quanto ti pare poi ti arriva il team che non ti la muori e danno la colpa a te certo chi è che ti dà la colpa beh che te la dà il team che non sa come stai giocando lascia stare porca tutta la tele proprio comunque mille grazie a gritor so che si mi vuole bene io volevo fare l'artista con il mio amico alchimista non sono alchimista sono un mago per bacco e niente quindi si era questa la skin che poteva essere verde ma in realtà è gialla è gialla gialla amico mio è gialla la skin del sistema di attenzione un follower grazie a selebbi per il follow ma che ti picchio in fronte selebbi o selebbi insomma a seconda di come si legga selebbi o selebbi ebbè oh il mio si legge dark buyer perché è con la by questo nome finisce con la by potrebbe anche se non penso proprio però vabbè uno lo dice per sicurezza per non sbagliere giocato bene mccree ha scritto eh si è il mio è il mio qui il mio amico qui di fiducia il signor lord ha giocato bene si è stato bravo è un buon dps un amico che perde punti insieme a me praticamente si è praticamente e niente io sto cercando di riacciuffare il platino sul mio main dato che come ben sappiamo la leggenda è vera ovvero il main va sempre peggio dello smart e vabbè mi sa che mi tocca senti io io però in realtà voglio volevo provo a fare una cosa se vado zaria no si dimmi qualcuno perché non non vorrei vabbè dai facciamo così facciamo così eh ho zeniatta vabbè proviamo con zaria proviamo con zaria vediamo un attimo come va la situazione quindi se l'hebbi è confermato o non è se l'hebbi se l'hebbi se l'hebbi ok se l'hebbi perfetto non te ne scappare diva mi chargi l'energy oddio oddio però dovrebbe un attimo andare come dire a contestare vabbè ho capito prendo uno scudo che è meglio ma tu grazie per avermi parato il culo ti voglio bene ci provo assiglio un po' oh me cri dietro me cri dietro me cri dietro raga non morite non morite che sto arrivando eh ho bisogno dell'energy altrimenti ho sbagliato ho sbagliato porca puttana volevo fidarmi la ulti attenti alle ulti già la miseria eh ho pensato che ho l'unica favore reynard che devo fare ho paura dell'anna più che altro io come faccio no dobbiamo gruppare dobbiamo gruppare no è inutile è inutile io ci ho provato anche a tenere no dobbiamo gruppare niente dai anzi molto dobbiamo resistere cerco di farle andare un po' avanti e vedere un po' dovremmo stare seriamente venite qua arrivo arrivo sto qua sto qua questo fancavolo trascendenza per cambiare dai io quando andremo e cristo fio di puttana proprio quello doveva piccare dai no veramente dai che cazzo che cazzo mi fa incazzare mi fa un piano incazzare non puoi giocare porca puttana madonna santa madonna santa non puoi giocare non puoi non puoi non puoi non puoi non puoi giocare non puoi prima dietro stavano ri per dietro non si riesco a scena senti ma che cazzo sta succedendo porca puttana allora 52 era la sensibilità su hash di mirino tu cazzo è andata dai dai mettiamo le mccree da pure la sfiga di non pinnare non puoi 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 voglio sapere vabbè beh porca mi perché sono così avanti no lo so io li ho visti no io li ho visti nello seguito perché non puoi back back perché sono andati così avanti no no sopra sombra ma che cazzo sta dio io no non ce la faccio non ce la faccio zeniatta e moira non c'ho un cazzo di cure non c'ho non mi salvano una volta non mi salvano una volta che mi devono salvare non mi salvano no 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 ma capisci che mi devi tra un globo segnalo non mi chiedono mi tira il globo oh grazie bella situazione bellissima bella situazione bellissima buono 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 dai pure C9 pure C9 pure C9 con tutti quei piccoli oh santo dio ho fatemi giocare il personaggio dove so che il colpo va dove dico io per favore la main diva by the way mito mi sta sfidando mi sta sfidando non so quante ore c'è su diva non so quante ore c'è su diva 300 e passa 323 ma allora dico che è meglio lo devo dimostrare non serve se dire quante ore c'è su diva non puoi vedere il tuo profilo privato e basta? no ce l'ho chiuso sulla gente si fa i suoi ce l'ho friends only si si ho capito 3 2 1 attacca comence dietro la sombra ma il reina mi può scidare un po' più sopra o ne? che madre che so io che madre che so io no 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 odio la mia vita e non solo dentro quante volte hanno usato quella di sombra e credo basta solo quella non c'era nel fight no no sopra perchè me la becco sempre e balle ma abbiamo perso il payload però sombra dietro devo cambiare pic cambia cambia anche se c'ho la ulti cambio comunque regolati regolati no no non ci stiamo avanti che nossa non che 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 i picchi ce li ho io eh ma no pic normali ma piccolo dai dai un altro po di le e ce la posso fare però del maledizioni io non ce la fai io non ce la faccio io non ce la faccio sta cazzo di me che poi devo dire che è un gioco equilibrato no ovvio che anche da me la sombra non so perché ma gli va contenta tu no ma qua mi sembra davanti a qualcosa tu ti addoggiare tutti addoggiare overdoge c'è anche se vuole essendo azzare no come giorgia solo lei la flash su sto gioco ha bisogno di una regolata va bene perché io l'ho tirata in faccia madonna sono io devo fare adesso qua sopra lo aspetto ma qua la mail a me quanto può rompere i coglioni mi fai un favore chiunque sia me in me potresti bannato ma che roba non vengo il lato non vengo il lato il killing il killing i want to switch get g get a mason bro porca puttana avevo 90 di vita e ne so rimasto con 90 oh super simple super suerte 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 Sì, 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 sì. come via, come via, puoi 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 voilà, la flash, la flash guarda, c'è già un'altra volta no, non posso no, vabbè, dai, gg, basta 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 gioco di merda gioco di merda perché poi è un gioco bello personaggi del cazzo moira che non ha bisogno di ma vabbè ma come li ricanciano, c'è già dall'inizio già dall'inizio non riusciamo a fare niente in difesa c'è moira moira basta madonna santa si picca il problema è cosa potevamo mandare c'è boh ma cosa vuoi andare c'è boh appunto ci sto pensando come avremmo posito c'è cosa vuoi andare cosa vuoi andare con una brigitte come secondo healer dove vuoi andare che cazzo vuoi fare sogni sogni non devi fare un cazzo devi sognare e basta perché perché scusa ma no io detesto chi vuole giocare brigitte come secondo healer non fa un cazzo non fa un cazzo perché un rollo li avrebbe fiddati e basta soprattutto la sombra che cosa c'è c'avevano picche cancri la sombra a me potevamo dai varli non so Winston Diva tanto anche se pensi di dei varli non lo so cioè puoi anche pensare a una gott eventuale c'era da me avevamo una brigitte quello che potevi fare ci potevamo adattare andare a gott che volevi fare più a me gott magari non lo so non lo so vabbò vediamo vediamo vinceci questa quanto devo sopportare a sto gioco lo giochiamo per migliorare e per salire gli rank quindi dobbiamo servirci tutte queste cose migliorare ma cosa vuoi migliorare vuoi migliorare quanto ti pare ti arriva ti arriva il team nemico che è compatto poi ti arriva il tuo team che ha brigitte come secondo healer poi c'è la mei avversaria la flash buggata cosa devi migliorare devi migliorare i glitch del gioco che tiri la flash in faccia la mei non si stanna migliora con quello migliora eh vabbè eh no perché ti devi devi abbassare la visuale cliccare e sperare in dio ma vaffanculo ma vaffanculo sentite vai 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 ma porca putana ola Quanto è tristezzi in atta Wondokant? Lui per a destra Daviamolo, 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 è solo, è solo Buono Lui sono low, lui sono low, lui sono low Lui sono veramente low Morto Brigg, 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 morto Semillano tutto ciò che vuoi Tutto ciò che vuoi semillano Beh ma io anche se picco tank non ho heal Dai, li abbiamo killati tutti Cioè dai, tutti Che cazzo è che non Anche se picco tank non c'ho healing Anche se picco tank Tutti li ho killati, tutti Anche se picchi tank non è healing Anche se picchi tank Anche se picchi tank Anche vabbè Non abbiamo ansia Che dovrebbe rilare Però, boh Dai, dai che sono indirbabilissimi Ma è... Andiamo sulla guido, andiamo sulla guido Andiamo quello che volevo fare Prende uno, go Dai, vai, vai, subito, subito Ok dai Andiamo su Zen, andiamo su Zen RIPER 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 morto Zen 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 dietro Zen 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 Morto 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 Lucio Lucio Vediamo Lucio Zaria adesso? Lucio Lucio Cazzo Meloissimo Punto porca Fall of the diego Ancora Mi risposta Vado 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 Arrivo E qua E qua E qua Zen 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 Qua dietro Qua dietro Zen Morto Questa ha sprecato la ultima La guido sopra Morto Stiamo qua Siamo qua Siamo qua Ah ok arrivo Sto qua sto qua Vai Non so che ritorni Non so perché Forse era per un periodo Solo per il primo periodo Prima settimana Non lo so Effettivamente neanche a me le notali se non sbaglio Nell'ultima partita Non so perché Poi si sarà bugato qualcosa Si sarà bugato di sicuro qualcosa Devevo volerci ligga no? Si No Almeno non me l'ha dati nemmeno Ma neanche a me me li sta dando Eh perciò di valore si è bugato qualcosa Bro Bo Brava Bravo Vina qua Vieni qua Vieni qua Vieni qua Vieni qua Ti permette mai più Mamario senza blink Baby, baby, baby Maira sul punto, ok, sto a posto River, river, river Baby, baby, sta arrivando con la Maira Leatele solo Mannaggia Ho fatto anche un po' di bloccare ma Un po' non cado io Bello Va bene così No, mi ha detto che questa era una mappa da dive L'unica cosa è che Questa che sta per venire Potrebbe essere la GOAT Seconda, terza mappa Proviamo a diveare Questa non è tanto da dive Dove fare zero arena Dove fare ancora così Andiamo in zero arena Vediamo 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 Che si accenderà anche GOAT Tres er dietro Tres eri dietro Tres eri non recall Boom bitch come bene, come bene queste cretinate le odio attento porca puttana sono anche un po' gli altri danno ma niente ma io per mezzo secondo facciamo le gruppe la tenete quanto più possibile tanto in questi casi si può fare in questi casi si deve deleghiare tanto mi arriva a 100 ma seriamente presa tracer abbiamo preso il 60% 66 abbiamo molto gravid basiamoci sotto gravid non 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 ma non non sono bello guardare due titoli che hanno la stessa cosa 61 e 41 va bene dai dire che possiamo una persona per sentire a pex assolutamente buon gritor ti aspettiamo titi collo siamo comunque in positivo ci sta o no vabbè sì è stata quella partita di merda prima e vabbè ho sbagliato va 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 niente aspetta si può aggiungere clicca il pulsantino più su aggiunge amicetti ok eccolo qua non è che non l'hai tra gli amici mandagli la richiesta di amicizia ma sicuramente se lo tenere scusate no 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 let's aga a a a a a a a a qualche punticino ce lo abbiamo fatto che oggi lord piano 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 20 20 punti al giorno ma almeno ci stiamo facendo sì ma c'era vede cosa mi fa incazzare che abbiamo perso una partita in un momento quello non sei neanche giocata quella partita no peh no peh cosa facciamo farci cosa puoi puoi duemo farci e che vuoi fa ma ceppa di quarzo che dire che dire se chiediti perché sto mi sto ricordando l'emoticon di telegram dove c'è luigi beh che dire luigi con un cognome bomba tomica no luigi fratello di mario di super mario luigi mario c'è lui che si guarda malissimo e sei messo da pia per culo e che il triple t che lo preferisco con il suo colore standard oh e parti donna mia ma perché sono tutti i giochi di merda e quello non parte quello è sbilanciato e niente eh certo certo vero lord vero lord certo lord non sei in game poca volta la sta avviando no guarda sei gay eh what tutto ma non quello ma lo sapremo ma ma a me ma vabbè ma 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 maissimo ma tipo maissimo ma 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 tipo così la ma ma no no bello m lo lo oh mamma work in un informatore verticale non Divoratore di mondi Ah, divoratore di mondi Eh, no, non c'è male Poi ce ne sono altri anche carini Sì, sì, sì Tipo morte dall'alto della Spitfire È molto carino L'MG Posso confermare che Giuseppi è etero Banna Banna Ah, ma lo conosci? Mi conoscevo? Eh sì, immagino di sì, se lo ha chiamato per nome Banna Ah beh, ti ha detto che sei etero Eh, Banna, lasciate In realtà il Lord è bisex Attenzione! Anzi, il Lord è pansessuale La rivelazione! Che cos'era pansessuale? Pansessuale? È il testo solo con i panini Va bene, va bene Io ci sto Io ci sto Ma sensuale mi piace Panno vuol dire tutto in greco Ma se ti fai invitare, maledizione! Ma se mi dici il logo di caricamento, maledizione! Oh, mio Dio C'hai il caricamento infinito? Praticamente Eh, se c'è quello infinito, bello di casa, devi chiudere e riaprire il gioco Cioè, devi chiudere e riaprire l'origin Fino a quando non ti si sblocca Che culo! Oh, aspetta, ho trovato una skin molto bella Dark No, sono belle quelle epiche Vai sulla Mozambique? Che è shotgun E guardati buon samaritano Nice Figata Vabbè, la bella Sì Sì, qua è molto piratesca Vabbè, credo che sia crashato Sì, intanto sei uscito Sì, sei crashato Vabbè, ormai Cucciolo lui che gli crasha il gioco Ciccio pasticcio Va bene C'è un'altra figa Prova del fuoco Guarda Dark Segui andiamo anche su Segui andiamo anche su tuoi server Tanto mi ha raggiunto anche qua Vabbè, a questo punto non c'è bisogno Tanto ormai Qualsiasi cosa io faccio È impossibile Carina questa di skin Quale? Pistole P22 Signora della giustizia Tamarra una cifra Sì, abbastanza Tamarra una cifra Carina dai Quella con Anubi Scelta della morte Non so È carina Ah, mi piacciono un sacco quelle epiche Perché sono tutte animate Si muovono Sì, sono bellissime Perché sono tutte animali Ma anche le skin Dei personaggi Degli eroi Anche il guardiano degli inferi Non è male Della R45 No, che non è male Per niente È bellissima È una cosa meravigliosa Oh, ok A te piacciono le skin animate Dark? A me è un sacco Le skin animate Guarda, mi viene la Wingman Guarda Vulcano O Aurora del Nord Bellissimo Vulcano Bellissima Aurora del Nord Figata È bello tutto No, ma sono proprio belle Ste cazze di skin Inizia a dire Eh, le meritano 20 euro 20 euro Se le vuoi spendere Nessuno ti darà del coglione Mamma Maissimo Mamma Mamma Maissimo Mamma Everybody with loliness 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 Esatto Nel senso che faremo fare lol Capito Facciamo uno fa lol Lol Non League of Legends Lol nel senso che facciamo schifo Le leggette Smette a ridere Everybody was kung fu fighting Dacci il promo con l'ife Condendo tu Con dendi tutti Mi piace che c'è il piercing sul naso Bra Su tipo Si fa la moda Sì You've been around with me Uh huh Lord Oh oh che è successo Eh prego ragazzi Tutto vostro Allora Andiamo al lava Guardatevi dietro Bella Mamma mia che bota Che ho preso Ego ho pingato lo zaino Fucsia Tu non l'hai preso scusa Certo Io ce n'erano due Che cazzo di culo eh Ce n'erano due Ho perso il ping Ho perso il ping Ah che culo Ma qua ce n'erano blu Ti pare che non lo prendi Ce n'erano blu Ce n'erano blu Gritor Dici no ti pare che tu non lo prendi Giustamente Ovvio Cioè Cosa stiamo parlando Ti pare che lord ti desse il Dai Dai Ti pare che lord ti desse il die Allora Facciamo via Lasciamo via Lasciamo via Lasciamo via E lo scopo Ti pare Ottimo Adesso Ho trovato il Il Liva Liva Vivi 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 let's go io mi butto giu qui no non ti buttare giu Dark mi dispi mi dispi ma la vita va avanti la vita avanza show must go dicevano la vita avanza mettila in frigo così non si rovina sembra abbastanza ragionevole e non fa una piega perché c'è il new key leader signori e vabbè sarà un bravo ragazzo avrà tutti i 10 a scuola però scusate vabbè cosa che vabbè Nord perché stai ridando come te come se fossi un cretino no niente gritto tranquillo oh ma io sto apprendendo tutte le municine che non mi servono fico ci fai la passaparola ma di là non ci sono queste cose ahhh ahhhhhhhhh io voglio andare in giro con la mozambi certo scendi io se prendere il mirino 3x o 1 o 2 variabili o 2 variabili o 2 variabili ma se tipo andiamo verso oh la wigman hai dai mi piace mi piace mi piace ti piace oh no certo ma io c'ho tutto tranne che shield e cure posso dire una cosa Lord? no una cosa no 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 una cosa Lord no no finisco di no Lord una cosa ma siete impazziti? si ma perché io continuo a prendere queste cazzo di munizioni che non mi servono? se non lo sei tu carino 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 bellino molto bellino ci piace invece una cifra perché è tutto mio e voi state anche in Pololandia quindi ah su questo non ti do torto c'è qualche shield che puoi pingare? si ce ne stanno una cifra e me lo dici e me lo dici adesso me lo dici sei contento? che non entro nel portale? perchè lo sto ancora posizionando aspetta cos'è che se entri in in shift si scusa nel si fai il portale mentre stai nel portale così l'abilità quella per muoverti velocemente ti vuoi un sacco più veloce ma dopo o prima? e poi stare insieme? K K K sarai tu e tre quarti della palazzina tu ma io ho detto K come dire ok K chiamaci tua sorella ma io ho detto K come K chiamaci sempre tua sorella per sicurezza dici no? ma K nel senso ok metti solo la K sempre tua sorella ma sei sicuro? anche tua zia se vuoi ha coinciduto quant'è iniziale o basta? troppo una presa se proprio ci tieni anche tu zia va bene Grito oh ma li è passato qualcuno mmmm ma tipo shotgun da qualche parte ahah sono passato io sono tutto io chi è che ha preso la wingman? guarda c'è tu la wingman ce l'ho io la wingman ce l'ho io eh è un regalo di natale per me grazie per me schiaccio andiamo verso verso i punti o verso le cascate o verso le punti ma lo so io seguo credito che tanto decidiamo perchè andiamo a destra perchè? verso le cascate? no destra adesso il nulla cosmi è occhio a destra e anche a lì perchè potrebbe esserci gente c'è gente tra l'altro c'è gente c'è gente cuccia guarda mortacci tua dove è dark? è dark io l'ho sparata io non so niente è stato dark è stato dark io non so niente 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 andiamoci niente 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 io mi dissocio erano troppo lontani per le armi che c'ho non potevo assolutamente fruttarle buttami la Q per favore vieni vieni che mi sto curando dentro arrivo guardatevi che dalle finestre vi possono sparare grazie ho visto gente perdere le partite per questo motivo ci sono finestre ovunque che ti possono prendere in qualsiasi angolazione sono col cecchino quindi teoricamente potrei si si ma se ce la fai spara io se li vedo magari ci provo ma non so dove stanno credo che se ne siano andati ok perchè hai sentito le voci yes ok allora ti stavano puntando quindi stanno ma la tonmi che botte che ho preso 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 no rega spostiamoci quelli l'hanno la il grande andiamo andiamo verso la sef dai io mi dissocio me ne vado bye bye io me ne vado è stato bello ma andiamo in safe andiamo in safe sto bene così grazie mille di tutto si sparano uguale muoviti a zig e zag ma tonmi che è passato regalo regalo regaloissimo 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 è senza shield ciccio è low e dietro c'era una mannaccia c'era gente per faccia c'era era un po circondatelli e come dei pollelli hai capito stiamo a provare stiamo a provare ma si ma si ormai tanto lo so che il lord è una peppa quindi manco mi arrabbo più va bene dark lasciamo perdere il fatto che io ho tolto tutto lo shield viola da solo e che era rimasta lo vita e che non c'era un cazzo di shield però va bene ci siamo ci siamo ci siamo si ci siamo ci siamo Senti Senti Dorniamo alle origini Senti Senti Entropia è la ordine naturale dell'universo Io semplicemente catalyzo il processo Senti 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 Oggi Grito ce l'ho proprio attacchata Vai Che vai Vai si tu Jump Muster La gente è brutta lì c'ho Madonna che voce c'ha sto qua Ma che voce c'ha Ma che voce c'ha Ma che voce c'ha Ma che voce c'ha Senti 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 Noi Neve Senti Senti le ragazze stanno a sparare nelle vicinanze sempre le più su qui c'è un g scout e una p20 ti interessa a qualcuno uno scout io prendo la cosa la shield che porca miseria eccolo qua si ci sono merini per terra cosa? ci sono merini per terra dipende cecchino o normale no normale qui c'è un casco si interessa a qualcuno una hemlock hemlock c'è il fuoco a raffica quindi spara tre colpi e poi va risparato eh si l'ho scoperto a mia spesa io ve lo ricordo non sia mai che o meno ho imparato quell'arma perchè l'ho scoperto a mia spesa io mi tengo l'alternator per adesso ma lì dentro lì dentro lì al caso c'era lì gli scout si no 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 non lo voglio tengo uno da assalto non sai che puoi averli entrambi non sai che puoi averli entrambi si però c'è anche il pompa è controproducente è contro un dente è contro un dente è contro un dente assolutamente 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 si ok vabbè io non direi di buttarci giù a quale lato? dove sta lord quella grisa ok che è comodo è uno zaino? c'è un blocco qui quello di voi usa il cecchino? no a posto c'è uno c'è uno digli ciao da parte mia va bene zaino quello mi fa comodo grazie figlio di puttana e non c'ho mirene non c'è venite qua c'è c'è lo sniper se andiamo sopra venite la dark si ora ora evo e munizioni cifre di munizioni niente niente si ah che bello sono passati da dove stavamo noi quindi occhio là sopra ah perfetto bello preciso oh flatline quasi interessa a qualcuno però devo cambiare un po' di roba ok sparam ecco 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 spara 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 attento a destra a destra deve tirare i fumogeni eh le tirate già le tirate già quelli erano i miei anneccia anneccia eh vabbè l'hanno quasi rotto il cazzo che ci vengono a cercare eh e ci devono lasciare andare dove dirci ciao andate via troppo la mappa grande 60 persone ci sta a quanto pare a ma io sono anche d'accordo però però se stessero a caso loro dici no? taci di pippo e magari mi caricasse il gioco che mi dice adesso ti si carichi te non lo so prepared and ready entropia è la ordine naturale dell'universo io solo catalyzo il processo non lo so a a Preparate per una morte determinata Pugni 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 Normalmente sicuramente Ottimo non c'è nessuno e deve' usare un corrupto Sì sì Possiamo già muovere Possiamo già Guarda c'è un elmo qui ti serve No, c'è l'ho, c'è l'ho, mi serve armatura C'è l'ho Ok No, sì dai Ma proprio strano qua Acceleratore serve a qualcuno di ulti No Quando non c'è lifeline usalo anche a casa Sì, te lo prendi usalo Ma c'è ancora uno shield No, sai che si è preso Dark, sì Il bianco l'ho preso io Sono ancora un paio di casette da dover spulciare C'è un sacco Ci hanno cagato sotto tantissimo Che? Ho visto qualcosa che si muoveva In realtà era Pixel dimmer All things die Even Jerry Even Jerry